Si è determinato di fare la conferenza stampa come studio legale, lega ambiente e comitato parchi perché la sentenza, che pure in sé è una sentenza povera, merita però una riflessione complessiva rispetto a quello che ha rappresentato in termini di rischio per le finanze regionali, parliamo di 260 milioni di euro, che significa un quinto delle finanze regionali, e quello che significa per la tutela delle muradi unigiane e quello che significa per l'altra vicenda che attendiamo che è quella di Opellende, ancora sotto subiudice e la stessa composizione del Consiglio di Giustizia Amministrativa sul quale abbiamo da dire, abbiamo da dire perché è una istituzione questa che è stata pensata nel nostro statuto siciliano che ha avuto una tenuta per 70 anni e devo dire in certi profili non soddisfacente e che quindi va aggiustata rispetto al sistema costituzionale del Paese. Questi motivi che poi saranno meglio illustrati sia in relazione alle parti della sentenza che interessano e la fattispecie quindi il fatto edificazione 71 villette, il fatto della tenuta della soprintendenza che ha di fatto tenuto come argine a questa iniziativa speculativa, anche se doveva difendersi da una dichiarazione di se stessa, perché se vi è stato un elemento di apertura alla speculazione edilizia non c'è dubbio che quell'apertura è venuta dal parere favorevole della soprintendenza data in sene di Comitato Regionale per l'Urbanistica per il piano Bufardesci. Altre persone ed altri soggetti poi si sono, per fortuna devo dire, i migliori della nostra soprintendenza hanno si sono posti come argine. Riguardo al mancato riconoscimento del risarcimento la sentenza non entra nel merito della sua quantificazione dice semplicemente che non è dovuto, cioè non discute nemmeno il valore che era richiesto perché dice che il diniego della soprintendenza alla autorizzazione di queste villette era perfettamente legittimo quindi nulla era dovuto per il risarcimento perché non c'è danno, punto. Dopodiché noi abbiamo eccepito nella nostra memoria a supporto della regione perché questi soldi sarebbero stati in capo ai cittadini siciliani, voglio ricordare, ed erano 260 milioni che questa quantificazione nasceva dall'attribuzione di un valore di 250 euro circa al metro quadrato per tutta la superficie ceduta anche quella del parco, anche quella del parco archeologico quindi come se tutto il parco fosse edificabile come quell'area a concentrazione volumetrica delle 71 villette quindi insomma c'erano delle evidenti assurdità che in ogni caso avrebbero reso improponibile questo valore però voglio dire il CGA ha tagliato la testa al toro dicendo che non c'è nessun motivo di risarcimento perché il vincolo c'era, la soprintendenza non poteva approvare quel progetto e quindi la questione è caduta anche e soprattutto in punta di diritto. La questione però era stata aperta anche dal punto di vista delle cifre perché c'era un consulente tecnico d'ufficio che aveva stabilito una somma. Certo, certo, ma infatti sto dicendo questa cifra risultava assolutamente immotivata veniva attribuito a quelle aree un valore ripeto di 250 euro al metro quadrato che non ha riscontro nei valori di mercato e non soltanto veniva attribuito per la porzione dove era prevista l'edificazione ma veniva attribuito questo valore a tutte le aree come se 11, 114 ettari interessati dalla realizzazione del parco archeologico fossero tutti quanti edificabili e avesse tutti quanti quel valore quindi un'evidente assurdità. Sono state accolte quindi le ragioni di Legambiente Sicilie che ha intervenuto in giudizio e ha avuto pienamente ragione mentre per quanto riguarda l'altra affare Openland Legambiente è stata condannata dalla Corte di Cassazione a pagare 18.000 euro. Qualcuno ci ha chiesto proprio in seguito alla condanna a 18.000 euro della Cassazione per la vicenda Openland chi ce la fa fare? Per quale motivo dobbiamo andare a inserirci in giudizi e rischiare anche condanne di questo tipo? Io credo che la sentenza resa due giorni fa spiega bene i motivi a parte il fatto che anche su quella vicenda abbiamo avuto prendo una sottoscrizione pubblica un riscontro notevolissimo una parte consistente di quei soldi abbiamo recuperato attraverso donazioni di cittadini simpatizzanti provenienti da tutta Italia proprio a rimarcare il ruolo importante su questi temi dell'Associazione di Legambiente ma come dire la sentenza di due giorni fa ci dà pienamente ragione ci conforta sia nel merito giuridico su cui si esprimerà meglio il collegio di avvocati che ha seguito la vicenda ma anche sul piano più politico che all'interno di quell'area ai piedi del Castello Eurialo due passi dal Castello Eurialo all'interno del parco e le mura di Unigiane fosse previsto un comparto edilizio di quelle dimensioni che fosse assolutamente incompatibili oltre che con la valenza paesaggistica archeologica dell'area anche con i vincoli già che erano presistenti dal 59 non lo diciamo adesso non lo abbiamo detto nemmeno soltanto all'interno di questo procedimento giudiziario ma lo diciamo sin dal 2004 da quando questa previsione urbanistica fu inserita in quello scellerato e vergognoso piano regolatore che fu approvato a colpi di maggioranza di notte le osservazioni nostre di alcuni gruppi consigliari del Comitato Parchi del compianto Ettore Di Giovanni sono certamente chiare sotto questo punto di vista noi denunciammo la divisione assolutamente artificiosa di quell'area in due parti parco di valenza archeologica e parco di valenza naturalistica all'interno del quale di quest'ultimo si poteva in qualche modo costruire attraverso quella previsione urbanistica lo denunciammo come una palese violazione del vincolo e dell'importanza di quell'area oggi questo lo dice anzi lo ha detto nel 2012 il TAR e lo ripete e lo ribadisce il CIGIA in quell'area quel tipo di vincolo non consentiva di edificare quindi qualcuno forse in sede di approvazione e deduzione definite del PRG si è distratto ecco noi rispetto a questa vicenda vorremmo andare fino in fondo e capire di chi sono le responsabilità di chi si è assunto in quel periodo in quella fase importante e storica la responsabilità di derogare o comunque di non considerare un vincolo importante come il vincolo archeologico indiretto nell'area delle Pipoli grazie a tutti